buongiorno vi presento la nuova creazione di casa eleaf un prodotto compatto e grande quanto un accendino mettiamolo a paragone con una boccetta da 30 ml e questo è la nuova sigaretta elettronica della eliaf è compattissima questo è il serbatoio come potete vedere il liquido ci ho messo anche un liquido 70 30 per testarla e vedere se magari visto l'atomizzatore piccolino se aveva problemi con il liquido invece va una bomba vi faccio vedere un attimino si smonta da qui su c'è questo gommino che non si deve toccare infatti c'è scritto don't touch quindi non toccatelo e poi c'è questo sistema dove nella testa del tappo è incluso il cacciavite diciamo così tu questo viene svitato in questa maniera si tira fuori lato lato messo otto e liquido si mette qui dentro fino al livello che è segnato facilissimo chiudi avviti prima magari lo fai a mano e per stringere ti aiuti con la chiave chiuso pronto senza pulsante automatica incredibile sta cosa si carica in un'ora ottima bella portate a mare pure che la perdete pazienza raga da non credere da non credere ciao ste svap